Ciao, bentrovata sul mio canale, ciao da Stefano ovviamente che sono io. Titolo del video di oggi è Un narcisista ti fa sentire sbagliata. Allora prima di iniziare ti chiedo se per favore puoi mettere il like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento a suggerirmi in tema di relazioni tossiche puoi farlo, qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, ti voglio dire che mi hanno scritto un libro, è una guida per riconoscere le relazioni tossiche e secondo me è un libro interessante perché ti cerca di spiegare, ti spiega come agiscono i narcisisti patologici, come riconoscerli fin dall'inizio e ovviamente come gestire questa relazione soprattutto alla fine quando lo scarto è davvero scioccante. Se vuoi questo libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle noto nei commenti. Chiusa parentesi. Un narcisista ti fa sentire sbagliata. Allora, partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, molte vittime di narcisisti patologici mi scrivono e mi dicono ma com'è possibile Stefano che qualsiasi cosa faccia non va bene? Com'è possibile Stefano che il mio ex o il mio attuale partner mi faccia sentire sempre in colpa, sempre che dovrei fare qualcosa di più e più faccio e più mi sento sbagliata perché dovrei fare sempre di più. Una persona mi ha anche detto che mi sembra di essere un criceto che corre dentro la ruota, chiaramente la ruota gira sempre più forte. Un narcisista patologico è una persona che non ha empatia emotiva, cioè non può amare, non amerà te o me perché ci sono passato, non ha amato quella prima di te e non amerà quella dopo di te. Un narcisista patologico vede delle persone, tutte le persone, come oggetti da utilizzare per poi scartare senza coscienza. Un narcisista patologico non vuole cambiare, crede di essere perfetto perché il disturbo narcisistico di personalità è egosintonico, cioè lui, il narcisista o lei, si sente in sintonia con se stesso, quindi non reputa ad avere nulla da cambiare. Le relazioni con i narcisisti patologici sono asimmetriche, cioè il narcisista sta qua e la partner sta qua. La partner deve dare tanto tutto, sempre e tutto quel che può, e lui dà le briciole quando e come vuole. Se la partner cerca di elevarsi e entrare in equilibrio, cioè vuole una relazione alla pari, dove vuole delle spiegazioni dal narcisista perché sparisce, perché la tratta male, magari chiede una convivenza dopo anni di relazione, ecco che il narcisista patologico chiude subito la relazione perché non vuole e non può stare in una relazione alla pari. Un narcisista patologico gode nel mettere la propria partner nel dubbio e nella confusione. Ora, ti senti sempre sbagliata perché è il narcisista a volerlo, perché lui ti chiede sempre di più, perché se non fai di più, ti triangola, cioè ti paragona alla sua ex, ti dice che la sua ex era migliore di te, che la sua ex era più brava di te, più bella di te, faceva cucinare meglio di te, si vestiva meglio di te. Perché lo fa? Perché ti vuole confusa, vuole che tu dia di più. E questa confusione, sai cosa porta? Alla depressione. Una vittima confusa e depressa per il narcisista è una vittima facilmente manipolabile, quindi lui gode, essendo sadico ed invidioso, o sadica e invidiosa, il narcisista o la narcisista, gode nel mantenere questa situazione aperta, questa situazione in cui lui fa ciò che vuole, lui ha il bastone del comando e la confusione regna sovrana. Infatti abbiamo fatto una domanda oggi nel nostro canale, nel canale, dicendo qual è la sensazione peggiore che sentivi durante la relazione con il narcisista. E moltissime persone hanno detto confusione. Regna sempre la confusione con il narcisista. Non capisci se lui ti ama davvero. Non capisci queste sparizioni. Non capisci perché un giorno è gentile e dolce, ti dice ti amo e il giorno dopo ti tratta malissimo. Un giorno è presente e un giorno è assente completamente. Lo fa apposta. Perché non ha empatia emotiva. E sa che facendo così ti gestisce meglio. Perché il narcisista patologico non vuole fare fatica. Vuole semplicemente il dominio e il controllo sulla partner. e nella sua testa, purtroppo con un disturbo di personalità, pensa che mantenendola nella confusione, la propria partner stia buona, stia lì, non dica niente, nel pianto, nel dolore. Insomma, un narcisista patologico vuole questa confusione. E ahimè, la situazione non cambierà mai. Quando poi la partner si stanca e dice basta, per i primi tempi magari il narcisista sta distante, perché ha trovato una nuova partner da fare love bombing, da sedurla. Però col tempo, il 95% dei narcisisti torna e ti prometterà di cambiare. Ti dirà che ha sbagliato, piangerà, prometterà a Maremonti. Ma ricordati che è solo una tattica. Perché un narcisista patologico non vuole cambiare. Il suo obiettivo è raggiungere un risultato dicendo soltanto delle bugie per riportare dietro una preda che gli serve. Perché ricordati che un narcisista è molto geloso di tutte le sue ex. Non vuole che le sue ex A stiano bene e B trovino un altro partner. Se vedono che te, magari che sei la sua ex, hai trovato un altro uomo, ecco che tornano per cercare di portarti via da una nuova tua fiamma, da un nuovo fidanzato o fidanzata. Morale. Tu non sei sbagliata. Tu sei una persona empatica, una bella persona, una persona luminosa e sono certo che stando distante dal narcisista troverai una persona bella come te, empatica come te. Ma ricordati, più tu stai nella relazione tossica e più la serenità si allontana, più rincorri il narcisista e più il narcisista ti farà star male e perdi tempo per cercare una persona migliore. Questo è assolutamente fondamentale da capire. Se tu capisci questo punto che ti ho appena detto, metabolizzi, forse l'hai già capito, ma metabolizzi questo concetto, ti assicuro che la vita ti sorriderà e troverai una persona, ripeto, empatica come te. Perché se un narcisista ti ha scelto è perché tu sei, ripeto, piena di qualità e di certo non sei sbagliata. È lui o lei, il narcisista, la narcisista, ad essere una persona invidiosa, sadica e non empatica. Quindi, cosa ti serve una persona del genere? Rifletti. Ci vuoi passare davvero tutta la vita? Pensi che questa persona ti renda serena, ti dia quello che tu vuoi? E tu dirai, ma mi manca. Non ti manca quella persona. Ti manca tutta questa dopamina, questa tossicità che ti ha iniettato, tra virgolette, e che eri sulle montagne russe, ma una volta spurgata questa tossicità starai meglio e capirai che era soltanto una relazione tossica e che non ti potrebbe mai rendere serena e che non ti porterà mai niente e che non ti avrebbe portato a nulla. Credimi. Stiamo uniti e vediamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda, ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Prima di lasciarti ti voglio dire ancora che mi ha scritto un libro Una guida per riconoscere le relazioni tossiche. È una guida secondo me interessante perché ti fa capire come agiscono i narcisisti, ti dà delle indicazioni su come riconoscerli fin dall'inizio, come gestirli e come star meglio dopo la scioccante rottura dopo che ti ha abbandonato. Se vuoi il libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo o qua sotto nelle note o nei commenti. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefan.